buonasera e benvenuti al diario di papa francesco anche oggi in studio c'è una famiglia quella di giulia de blasis e giuseppe romagnoli benvenuti grazie tante famiglie invece sono in aula paolo sesto perché oggi inizia l'incontro mondiale delle famiglie inizia con una festa e soprattutto con un abbraccio quello di papa francesco allora andiamo all'esterno dell'aula paolo sesto perché poi seguiremo in diretta questa festa e questo incontro e ci facciamo raccontare tutto da leonardo possati ciao leonardo buonasera gennaro siamo qui fuori dall'aula paolo sesto con don dario criscuoli nell'ufficio pastorale della famiglia della diocesi di roma al quale fra poco chiederemo il senso e il significato di questo incontro mondiale un incontro che vede arrivare a roma centinaia di famiglie di delegazioni da tutto il mondo ci sono 120 paesi rappresentati un evento questo incontro di famiglia che è nato nell'ottantaquattro su volontà di giovanni paolo secondo e che avanti negli anni siamo alla decima edizione i temi molti tra questi la santità della famiglia nel mondo di oggi la trasmissione della fede ai figli vivere il matrimonio la possibilità di riconciliarsi all'interno del matrimonio la cura degli anziani all'interno della famiglia tutti i temi sui quali nei prossimi giorni si confronteranno i delegati che arrivano a tutte le diocesi del mondo un incontro che inizierà stasera alle 18 con un festival alla presenza del papa e sabato terminerà con l'eucaristia in piazza san pietro poi domenica col mandato del papa durante l'angelus ma chiediamo a don dario che significato ha un evento del genere a roma in un momento in cui la famiglia sembra un po bistrattata che ha poca importanza che i modelli esistenziali sono altri sì ce l'ha detto papa francesco attraverso la tematica che ha scelto per questa giornata mondiale della famiglia la via famiglia vocazione via di santità l'amore familiare come vocazione via di santità perché ci ha detto questo il papa per dimostrare che ancora è possibile che la famiglia sia la strada verso la santità quando io celebre i matrimoni c'è una parte bellissima del rito del matrimonio che dice così che il matrimonio è la nuova via per la santificazione degli sposi cioè nel matrimonio diventano santi e io dico sempre che la santità è anche un martirio il matrimonio è un martirio detta così può sembrare anche scoraggiante ma se pensiamo al senso del termine martire martire è colui il quale testimonia martire vuol dire testimone nel testimone è quello il quale dice che una cosa è vera nel matrimonio cosa è vero che se c'è Gesù Cristo le cose vanno in un altro modo perché si supera la morte la morte che il difetto dell'altro la fatica a perdonare la fatica ad accogliere la fatica a essere persone diverse da quelle che si aspetta e queste famiglie ci racconteranno in questi giorni tutto questo ci raccontano che vi è possibile per superare per arrivare a questo martirio a questa testimoniante sì tutte le giornate del convegno del congresso teologico pastorale saranno una sorta di declinazione della tematica scelta dal papa ogni giorno verrà trattata una uno di questi aspetti attraverso le testimonianze delle famiglie attraverso soprattutto quello che è la vita concreta si partirà dalla vita concreta delle famiglie che e che ascolteremo e che saranno messe in gioco ecco tutto questo gennaro inizierà fra poco intorno alle 18 con un festival al preso alla presenza di papa francesco che arriverà qui in aula paolo sesto se non ci sono domande da studio ti riderei la linea grazie leonardo buon lavoro e buona festa delle delle famiglie io però prima di sentire l'udienza perché oggi lo dicevamo è anche giornata d'udienza vorrei riprendere alcune cose che abbiamo sentito da don dario in particolare mi riferisco alla parola testimonianza che credo sia una parola decisiva nella nella famiglia la prima testimonianza credo sia nei confronti dei figli voi ne avete quattro è così che cosa significa essere testimoni e di che cosa davanti ai figli guardati rispondo molto come rispondere ai miei figli insomma è vedere l'amore che c'è tra tra mamma e papà che non è una cosa scontata che che ci sia sempre e questo i figli lo lo fiutano come vero e vedono se c'è questa apertura per l'altro l'apertura per loro se c'è sempre spazio disponibile per per un abbraccio per un confronto per un conforto questo è quello che giuseppe quando ci siamo sposati abbiamo chiesto come grazia particolare che potessimo sempre essere aperti alle novità che la nostra vita ci metteva di fronte coi figli con gli altri non solo per i figli insomma è vero che anche l'educazione dei figli prima ancora di essere un fatto di regole di norme da seguire di appunto di buona educazione di galateo è un fatto di testimonianza che vale quello che gli fate vedere più che quello che gli dite si giannaro quello che vedo con i miei figli che sono ancora piccoli vanno dai 10 all'anno ai 14 mesi quindi dai 10 anni 14 mesi è questo che le parole servono a poco servono i fatti serve che l'altro veda che tu ti doni che l'altro veda che tu sei disponibile la famiglia in fondo è questo è un è un luogo dove si sperimenta che io posso sbagliare ma si sperimenta anche il perdono dove si sperimenta la misericordia di dio dove sperimento che l'altro non è un limite ma una ricchezza così com'è vedo i miei limiti scopri i miei limiti ma sperimento anche che l'altro può venirmi incontro e così anche i bambini sono molto attenti a questo e lo capiscono lo capiscono e lo apprezzano non le parole ma la testimonianza l'essere presente esserci vediamo adesso allora all'udienza di questa mattina di papa francesco in piazza san pietro non in aula paolo sesso dove invece comincerà tra poco la festa il papa ha continuato la sua riflessione sugli anziani l'ha fatto a partire da un episodio raccontato al termine del vangelo di giovanni il dialogo tra gesù risorto e pietro ma sentiamo le parole del papa primo passo è l'avvertimento di gesù a pietro quando eri giovane eri autosufficiente quando sarai vecchio non sarai più così padrone del te della tua vita nel dillo a me che devo andare in carrozzina e anche la tua testimonianza dice gesù ti accompagnerà a questa debolezza tu devi essere testimoni di gesù anche nella debolezza nella malattia il fine vita deve essere un fine vita di discepoli discepoli di gesù che signore ci parla sempre secondo l'età che abbiamo la tua sequela dovrà imparare a lasciarsi istruire e plasmare della tua fragilità della tua impotenza della tua dipendenza ad altri persino nel vestirsi nel camminare ma tu seguimi la sequela di gesù va sempre avanti con buona salute con non buona salute autosufficiente non con l'autosufficienza fisica ma se quelle gesù importanti seguire gesù sempre a piedi di corsa lentamente in carrozzina ma seguirlo sempre cresce e non siamo più autodependenti come prima cresce questo e anche lì matura la fede anche lì c'è gesù con noi anche lui anche lì sgorga quella quella ricchezza della fede ben vissuta durante la strada della vita saluto collegato con noi don giuseppe ruta benvenuto don giuseppe buonasera a voi senti aiutaci prima di tutto a inquadrare questo incontro tra il risorto e pietro che avviene viene raccontato appunto alla fine del vangelo di giovanni dove accanto a la fragilità bella anche l'autoironia di papa francesco però alla vecchiaia viene attribuita anche una responsabilità forte mi pare perché poi gesù a pietro dice per tre volte insomma pasci le mie pecorelle mie agnelli una volta dice agnelli due volte pecorelle aiutaci a inquadrare questo questo incontro intanto interessante l'ingrocio tra la narrazione evangelica della triplice richiesta da parte di gesù nei confronti di pietro che lo aveva rinnegato tre volte per tre volte gesù gli dice mi ami tu ed è bella l'inclusione con questa narrazione autobiografica anche di papa francesco che vive la sua terza età e la vive in carrozzina quindi in qualche modo questo incrocio è veramente interessante per la catechesi che è stata rivolta oggi alla chiesa e non solo agli anziani ma a tutte le fasce di età quindi un papa che è narra e si ritrova in pietro e si ritrova pietro perché in qualche modo la fede umana è sempre una fede alla ricerca in crescita è una fede che ha bisogno sempre di essere sostenuta e il sostegno della fede di pietro si trova nell'amore di gesù che prima di essere un amore richiesto è un amore dato non dimentichiamo che c'è questo incrocio tra pietro il discepolo a cui gesù dice mi ami tu per tre volte e il discepolo che gesù amava giovani ma che può essere anche pietro anche pietro adesso dopo la risurrezione si sente amato per questo può essere richiamato all'amore e questo è il segno di una ripresa perché nonostante il triplice rinnegamento di pietro gesù non si ferma conferma la promessa che pietro sarà il capo colui che deve confermare nella fede gli altri ed è proprio un paradosso che colui che si chiama pietro che è chiamato cefa da gesù che è stato fragile nel rinnegare gesù diventa proprio la forza per i fratelli per i discepoli per coloro che conoscono gesù senti ma che cos'è la forza della fede che cos'è il papa parla di una fede matura che cos'è una fede matura la fede matura non è un punto di partenza quanto piuttosto un punto di arrivo è una tensione continua in cui la persona si riscopre bisognosa ecco di dio degli altri in cui fa spazio agli altri quindi una fede che si apre all'amore perché il compimento della fede è l'amore e tu quando quando giudichi una fede matura in te o nelle persone che incontri che confessi beh quanto la fede onesta che sa riconoscere il senso del limite della fragilità e per questo si affida l'affido a colui che ci ama per primo a colui che ci precede questa è secondo me la vera fede e non una fede supponente che sa tutto che in qualche modo punta su se stesso quanto piuttosto punta sulla forza di dio questa è la fede che ruolo hanno nella vostra famiglia gli gli anziani torniamo un po anche al termine testimonianza che mi pare leghi sia la catechesi che quello che stanno per vivere le famiglie con papa francesco in aula paolo sesto pari mentre parlavate mi veniva a mente un fatto che che ho vissuto personalmente gli ultimi anni della mia nonna materna in cui come famiglia ci siamo presi cura di lei perché ecco era molto malata questa malattia gli ha tolto la possibilità di interagire la parola alzheimer quindi ti dirò sono stati gli anni più belli per me perché ho avuto modo di scoprire la sua fragilità che ha sempre negato perché una donna forte ma l'ho vista così come era che era bisognosa e quel tempo vissuto insieme ma intenerito ma insegnato che effettivamente sono un nulla ho bisogno dell'altro ho bisogno del dio dell'azione di dio e di vederla accanto a me la sofferenza di cui parlava papa francesco non è fine a se stessa ecco ho visto questo ho visto che ha un senso perché ha schiuso nella mia vita alcune grazie alcune grazie che ho potuto vedere la presenza di questa donna senza possibilità di interagire ma ha dato molto più di di tante altre relazioni in cui si ha la possibilità di parlare in cui si ha la possibilità di esserci lei fisicamente era presente e mi ha dato questo ecco veramente è stato un tempo bellissimo invece che ruolo giocano i vostri genitori con voi ma soprattutto con i vostri figli quando fanno il lavoro dei nonni fanno il lavoro dei nonni proprio e oltre a livello pratico che ci aiutano insomma nel quotidiano e dove sfruttiamo bene bene i nonni e nella loro vita cioè abbiamo sempre preso loro come esempio ci hanno aiutato in questo tanto ci hanno dato la loro vita di esempio da ci hanno fatto vedere i loro errori e abbiamo avuto dei genitori molto onesti che ci hanno lasciato vedere anche le loro debolezze e abbiamo sempre visto in loro i pro e contro e questo ci ha aiutato tantissimo a crescere e come genitori e come persone e questo aiuta anche i bambini perché comunque hanno quella memoria di un passato degli errori già già commessi delle cose anche fatte molto bene dai nonni e questo ci sta aiutando tutti nel nel percorso di vita partendo anche dai nostri di nonni anziani grazie ad oggi ancora nostri genitori sono giovani insomma e in piene forze facciamo una piccolissima pausa poi torneremo ancora per sentire la catechesi di oggi ma soprattutto per vivere in diretta l'incontro mondiale delle famiglie quello con papa francesco ci vediamo tra poco di nuovo in diretta per seguire l'incontro di papa francesco le famiglie ma anche per raccontarvi l'udienza di questa mattina dedicata naturalmente agli anziani e alla saggezza degli anziani sentiamo di cosa si tratta ma di nuovo dobbiamo interrogarci disponiamo di una spiritualità realmente capace di interpretare la stagione ormai lunga diffusa di questo tempo della nostra debolezza affidata ad altri più che alla potenza della nostra autonomia come si rimane fideli alla sequela vissuta all'amore promesso alla giustizia cercata nel tempo della nostra capacità d'iniziativa nel tempo della fragilità nel tempo della dipendenza nel tempo del congedo del tempo di allontanarsi dal protagonismo della nostra vita non è facile allontanarsi di essere protagonista non è facile gli anziani non dovremmo essere invidiosi dei giovani che prendono la loro strada che occupano il nostro posto che durano più di noi l'onore della nostra fedeltà di anziani all'amore giurato la fedeltà la sequela della fede che abbiamo creduto anche nelle condizioni che le avvicinano al congedo della vita sono il nostro titolo di ammirazione per le generazioni che vengono e di grato riconoscimento da parte del signore imparare a congedarsi questa è la saggezza degli anziani persino la sequela forzatamente inoperosa fatta di emozionata contemplazione di ascolto rapito della parola del signore come quella di maria sorella di lazaro diventerà la parte migliore della loro vita della vita di noi anziani don giuseppe in che modo secondo te la fede ci può aiutare a vivere questa dimensione che forse un po innaturale cioè quella di non invidiare i giovani dico è naturale perché è una frase che abbiamo sentito mille volte qualche volta l'abbiamo iniziato a dire anche noi quanto vorrei avere 20 anni quanto ti invidio la gioventù insomma come ci aiuta la fede in questo accettare come dice papa francesco di non essere più protagonisti quando abbiamo passato una vita a cercarlo di essere naturalmente la società in cui viviamo non ci aiuta in questo perché è una società giovanilistica dove in qualche modo si propina la giovinezza ecco che non finisce mai ma questa è una chimera non è un'illusione mentre il papa ci invita a valorizzare le stagioni della vita c'è Romano Guardini che ha un saggio meraviglioso dove fa passare le stagioni della vita e lui questo scritto lo scrive proprio alla fine della della sua esistenza e in fondo la sapienza è quella di gustare ciascuna stagione perché ciascuna stagione ha una sua bellezza e quello che è importante è acquisire proprio imparare dice il papa a concedarsi cioè a consegnarsi chi nella vita ha imparato a consegnare la propria vita a fare della propria vita un dono agli altri in qualche modo nella età senile probabilmente si è preparato a concedarsi quindi a fare spazio ai giovani giovanni vigesimo terzo diceva si ricordino i giovani che il mondo c'è stato prima di loro ma si ricordino gli anziani che il mondo ci sarà dopo di loro no allora nessuno è eterno quindi accettare quella che è la vita e con quello che comporta le varie stagioni gustarle per quello che ci danno e poi anche godere della gioia altrui godere dei giovani questo dovrebbe essere un po è la sapienza degli anziani che consegnano al mondo proprio la giovinezza dei propri figli dei propri nipoti di coloro che sono la generazione ecco che che viene quindi questa fiducia questa speranza che gli anziani devono maturare proprio come capacità di concedarsi e capacità di consegnare il mondo alle nuove generazioni senti ma secondo te la dimensione contemplativa della fede è qualcosa che può crescere nella stagione della vecchiaia oppure è un carisma che uno ha o semplicemente non ha è un invito ad acquisire a mettere insieme marta e maria in fondo il richiamo all'episodio del vangelo di luca del capitolo dieci no delle due sorelle la sorella marta che è la faccendiera colei che vive la quotidianità tra tante attività nella fredesia della ferialità e maria che invece è la discepola che siede ai piedi di gesù e forse è la sintesi tra queste due sorelle che tante volte noi dobbiamo ricercare in qualsiasi stato di vita dobbiamo evitare proprio di essere frenetici e lasciarci travolgere dalle cose da fare dall'altra parte è chiaro che la quotidianità esige un impegno però deve essere compensato dalla contemplazione dal considerare anche il senso per cui si agisce si fa e si portano avanti le attività del quotidiano è una sapienza da acquisire continuamente quindi che ci appartiene che condividiamo in tutte le stagioni della vita giulia vedere i vostri genitori diventati nonni e avviarsi all'età anziana non so quanti anni abbiano prima avete detto che sono piuttosto giovani ve li ha fatti vedere cambiati avete visto dei cambiamenti mi chiedo prima giuseppe così li faccio finire di tossire sì sì assolutamente assolutamente la stagione della vita che cambia effettivamente cambia anche la prospettiva ma è cambiata per loro ma è cambiata per me anche perché hai ragione te per carità sono alla soglia dei 40 anni però anche io sento che non ho più 25 anni e allora molte volte ho pensato beh avesse ancora quelle energie però riesco a guardare la realtà anche ho visto la loro che è cambiata e vedo la mia che è cambiata anche con con occhi diversi c'era una cosa due cose che mi colpivano molto del discorso del papa che erano scusa volevo dirlo perché sono come era una domanda come rimane imparare a rimanere fedeli e la seconda è come imparare a congedarsi ecco mi veniva in mente questo io e di questo sono sicuro queste due cose che sono fondamentali nella vita di tutti gli uomini ma l'unico posto dove si imparano e la chiesa la comunità cristiana ti aiuta in questo ti insegna a rimanere fedele e ti insegna ti impara piano piano a congedarti e questo in tutte le stagioni della vita cioè dalla fanciullezza alla giovinezza poi l'età adulta qualsiasi passaggio può essere traumatico ma vissuto all'interno della comunità cristiana dove c'è cristo apre una nuova stagione non è mai chiude ma apre una nuova stagione si realizza veramente in ogni tempo il salmo che dice saranno veggie di rigogliosi e daranno ancora frutti in qualsiasi stagione anche nelle tanziane e da questo punto di vista parlo soprattutto la trasmissione della fede i nonni verso i vostri figli hanno un ruolo attivo non mi hanno un ruolo attivo perché comunque hanno un loro percorso di di fede personale e vedo che l'esperienza comunque di un vissuto più lungo aiuta i bambini perché hanno bisogno di vedere che veramente il signore è fedele rimane fedele alla sua opera rimane fedele nei matrimoni rimane fedele nella malattia rimane fedele nel nella parte inattiva diciamo della vita che forse è quella più complicata perché questa è una società che ci impone sempre di essere giovani attivi ed è difficilissimo entrare invece nella parte di lasciare ma è l'esperienza che facciamo tutti i giorni secondo me invecchiare si impara piano piano nel nella vita di mollare le redini del dell'iper controllo che ha del quotidiano e di modellarti a quello che i fatti la storia di impone di vivere questo di vedo lo vedo nei miei genitori lo vedo nel nelle persone anziane che ho avuto la grazia di avere vicino frequentando varie fasce d'età e ho visto tante miei catechisti e ormai nella malattia godersi veramente le celebrazioni godersi un viaggio ho visto che non hanno rinunciato a stare con il signore a stare con i fratelli ma hanno imparato a viverlo in maniera diversa magari pregando magari in un lettuto ospedale però ho visto compiersi per loro meraviglie e poi scendere tanta consolazione che hanno dato a loro ma anche a me e questo me mi sta aiutando per perché spaventa anche a me diventare anziano perdere l'autosufficienza per te mi pare che sia abbastanza tempo per carità però però è giusto è giusto pensare cioè che comunque siamo di passaggio non non ci vedo niente di strano a proposito di imparare a mollare molliamo la catechesi e salutiamo per questo anche don giuseppe rita grazie gruta grazie don giuseppe ciao arrivederci e iniziamo a prepararci all'incontro tra papa francesco le famiglie ma più in generale all'incontro il decimo incontro mondiale delle famiglie che comincia all'insegna di una festa comincia con una festa e di questo il papa ha parlato diverse volte in particolare andiamo a riascoltare una catechesi di qualche anno fa dedicata proprio alla famiglia e al senso di festa è così gesù ci fa ci insegna che il capolavoro della società e la famiglia l'uomo e la donna che si amano questo il capolavoro oggi sembra non facile parlare del matrimonio come di una festa che si rinnova nel tempo nelle diverse stagioni dell'intera vita dei cogi è un fatto che le persone che si sposano sono sempre di meno questo è un fatto i giovani non vogliono sposarsi in molti paesi aumenta invece il numero delle separazioni mentre diminuisce il numero dei figli la difficoltà a restare assieme sia come coppia sia come famiglia porta a rompere i legami con sempre maggiore frequenza e rapidità e proprio i figli sono i primi a portarne le conseguenze la testimonianza più persuasiva della benedizione del matrimonio cristiano e la vita buona degli sposi cristiani e della famiglia non c'è modo migliore per dire la bellezza del sacramento il matrimonio consacrato da dio custodisce quel legame tra uomo e la donna che dio ha benedetto fin dalla creazione del mondo ed è fonte di pace e di bene per l'intera vita coniugale e familiare ma il papa parla della bellezza della famiglia che poi anche il titolo della festa che apre l'incontro ma in base alla vostra esperienza che cos'è questa bellezza come la raccontereste la bellezza che abbiamo visto tante volte il nostro matrimonio è stata questa apertura alla vita e alla novità questa è stata la base la parola forse che ci ha più aiutato abbiamo visto tante volte aprirsi strade che non pensavamo di sopravvivere a quattro figli a lavoro invece vediamo che piano piano ci si aprono nuove strade ci si apre la voglia le energie non siamo particolarmente dotati di chissà quale quale segreto per per vivere bene però ecco la bellezza la vedo ogni volta che vedo questa famiglia grande che non mai avrei forse pensato di poter costruire l'amore tra me giuseppe rinnovarsi non ci siamo sposati forse mi sarei sposata anche prima per perché vedo che che l'amore non non cambia col matrimonio ma cresce cresce e perché vedo forse la di più la sulle sue fragilità le le sue forse forse tutto quello che tutti sogni che uno si fa da da ragazza però vedo che il signore poi provvede e mi da da quello che di cui avevo bisogno e mi lascia piano piano mi lascio guidare in questa in questa vita che mi ha riempita di mille cose giuseppe ma guarda mi viene in mente un evento soprattutto quando abbiamo abbiamo comunicato ai bambini che ai tre bambini che aspettavamo il quarto che sarebbe arrivato matteo abbiamo organizzato una festa in realtà a casa intima solo noi e questo per noi è mai d'accordo abbiamo deciso di farlo così perché il senso era questo una festa e volevamo che gli passasse questo fare spazio nella propria vita a qualcun altro non è un rinunciare a qualcosa ma è una festa è qualcosa che si aggiunge un momento per veramente stare in pace essere sereno perché perché si realizzava in noi la pianezza un altro figlio ed era un altro fratello per loro e questo era uno dei momenti che ecco reali che abbiamo vissuto come festa questa bellezza effettivamente non è difficile cioè non è facile vedere tutti i giorni c'è la stanchezza c'è i mille impegni la vita frenetica che tutti viviamo ma bisogna avere un occhio anche attento bisogna sempre tenere a mente che veramente poche cose riempiono come l'amore che si sperimenta all'interno della famiglia questo è quello che viviamo tutti i giorni io e Giulia c'è una cosa che dice papa francesco e che credo sia anche il senso di questo incontro mondiale che l'amore di una famiglia non è un soltanto un fatto privato chiuso dentro la famiglia stessa ma il papa dice che la chiesa è pienamente coinvolta nella storia di ogni matrimonio cristiano ascoltiamo il sacramento del matrimonio è un grande atto di fede e di amore testimonia il coraggio di credere alla bellezza dell'atto creatore di dio e di vivere quell'amore che spinge ad andare sempre oltre oltre se stessi e anche oltre la stessa famiglia la vocazione cristiana ad amare senza riserve e senza misura è quanto con la grazia di cristo sta alla basse del libero consenso che costituisce il matrimonio la chiesa stessa è pienamente coinvolta nella storia di ogni matrimonio cristiano si edifica nelle sue riuscite e patisce nei suoi fallimenti in questa profondità del misterio creaturale riconosciuto e restabilito nella sua purezza si apre un secondo grande orizzonte che caratterizza il sacramento del matrimonio la decisione di sposarsi nel Signore e questa decisione contiene anche una dimensione missionaria che significa avere nel cuore la disponibilità a farsi tramite della benedizione di Dio e della grazia del Signore per tutti infatti gli sposi cristiani partecipano in quanto sposi alla missione della Chiesa e ci vuole coraggio per questo e per questo quando io saluto ai novelli sposi dico ecco i coraggiosi perché ci vuole coraggio per amarsi così come Cristo ama la Chiesa Allora che cosa significa? Credo che questa affermazione di Papa Francesco che la Chiesa è pienamente coinvolta in ogni matrimonio cristiano credo che sia il senso proprio dell'incontro mondiale delle famiglie che sia significato a per voi questo convenire a Roma di tante famiglie diverse che sono Chiesa, che fanno Chiesa che cosa sperate? Che avete da dirvi le une con le altre? A me colpiva tantissimo che quando abbiamo fatto il nostro primo corso prematrimoniale mi ricordo che la domanda che ci fecero queste suore alcantarine fu come volete la vostra casa e mi ricordo con le porte chiuse, con le porte aperte mi ricordo questa voglia comunque di avere queste porte aperte cioè il matrimonio non può essere un atto privato tra un accordo tra me e lui che gestiamo almeno il matrimonio che abbiamo vissuto io e Giuseppe e questo è un matrimonio che è anche per gli altri e quando dico per gli altri intendo che per chi ha bisogno per le altre coppie di sposi ne abbiamo avuto bisogno noi nella nostra vita di vedere coppie più adulte più adulte nella fede, più adulte nel matrimonio vedere come hanno affrontato i problemi della vita le gioie, le risorse questo ci ha aiutato tantissimo e questa giornata secondo me viene soprattutto per trovare questa comunione c'è bisogno che gli occhi vedano che altre persone possano dare la propria vita che è bello avere una famiglia, che è bello sposarsi che c'è... che non sei solo perché molte volte la sensazione è questa che sono rimasti in pochi a... avere il desiderio di sposarsi di condividere, di amare in qualche modo di lasciarsi un po' consumare dalla vita ecco quando ti riunisci vedi tante altre persone tante altre coppie felici e ti accorgi che non mentono e che c'è verità in quello che hanno fatto coppie più grandi, coppie più giovani allora questo ti aiuta veramente ti fa crescere tra pochissimo e mai questioni di secondi più che di minuti inizia la festa Leonardo Possati ci raccontava che però questo incontro terminerà domenica all'Angelus con un mandato missionario alle famiglie che cos'è per te già oggi il senso della missione della famiglia voi tra l'altro siete anche catechisti sì, il concetto è complicato però la famiglia è testimone fondamentalmente di una realtà che è quella che insieme a Cristo fondamentalmente si può passare dall'altra parte cioè si può passare dalla morte alla vita questo non riesco io con le mie forze vorrei ma non ci riesco e testimoniamo questo al mondo ecco, lo spirito missionario della famiglia è questo testimoniare che è possibile passare all'altro è possibile che io diminuisca per il bene dell'altro è possibile gioire per la felicità dell'altro ecco, è possibile passare questo mistero pasquale veramente che celebriamo ogni domenica è possibile passare dalla morte alla vita questo celebra la famiglia e questo testimonia il mondo che cosa ti aspetti da questi giorni di incontro mondiale che sta per cominciare anzi sta cominciando in questo momento dunque lasciamo la linea alla diretta dell'aula Paolo VI e allora eccoci di nuovo insieme in studio al termine di questo primo abbraccio ma saranno tre sostanzialmente gli incontri tra le famiglie Papa Francesco la bellezza della famiglia era il titolo di questa festa d'apertura e questa bellezza l'abbiamo vista in cinque testimonianze cinque testimonianze che ci hanno detto che però la bellezza non è la perfezione non è il non cadere, non è il non soffrire la bellezza è riuscire in qualche modo a rinascere sono tutte storie che sono andate in questa direzione Giuseppe sì a me colpiva questo la famiglia è uno dei luoghi in cui sperimentare che si ha un limite in realtà scontrarsi col proprio limite fa a volte male ma al contempo dove scopro il mio limite scopro veramente la provvidenza di Dio che è un padre buono, che me ama che pensa veramente a me ogni giorno e lo pensa con amore questo è quello che abbiamo scoperto nelle nostre famiglie e questo è quello anche che i fratelli hanno testimoniato queste cinque famiglie vero, particolari alcune sofferenti sono passate veramente per la croce ma hanno visto la risurrezione questo hanno testimoniato e questo è quello che ci portiamo oggi a casa veramente una bellezza veramente la bellezza della famiglia che cosa trovi in queste esperienze in queste storie che abbiamo ascoltato di simile alla vostra famiglia che sono storie molto diverse sono storie tra l'altro tutte molto forti e però c'è qualcosa di comune il comune è che vedi persone diciamo quello che viene definito normale la normalità che entra poi nello straordinario vedi tante vite particolari dove quello che è comparso di più è stato l'amore l'amore per questi figli la vivacità dei bambini e vedi che è possibile che c'è speranza che possiamo insomma gridare ancora nella famiglia che c'è il signore provvide ancora non ha tirato indietro il braccio Quale testimonianza ti ha colpito di più di tutte quelle che hai ascoltato e soprattutto perché? Mi ha colpito credo fosse la prima testimonianza la stessa cosa che ha sottolineato quella di Serena e Luigi sì, credo di sì la stessa frase che ha sottolineato Papa Francesco il fatto che da solo non mi basto non riesco questo è quello che vivo anche io le forze finiscono e di fronte ad alcune sfide della vita grandi o piccole però io vedo che non riesco e allora come arrivare? come riuscire nelle imprese che ci mette davanti la vita? basta pensare solo all'educazione dei figli e chi è che è nato con le istruzioni d'uso? nessuno è una sfida enorme quella di consegnare veramente la speranza a queste nuove generazioni? come possiamo? davvero da soli non ci bastiamo un'altra cosa che mi colpiva è che molti quasi tutti hanno detto che hanno trovato veramente una soluzione un conforto una speranza nella chiesa o in una famiglia cristiana o nell'amore che è comunque un esempio veramente della presenza di Dio quindi c'è una comunità cristiana c'è una comunità che è la chiesa che è di sostegno alla famiglia e questo non dobbiamo mai dimenticarlo quindi la famiglia ha bisogno della chiesa della comunità e la comunità ha bisogno delle famiglie per te qual è stata invece la testimonianza che più ha lasciato il segno? io vabbè rimango colpita ma a livello personale della storia di Chiara Chiara Corbella abbiamo sentito i genitori devo dire che avere la sua visione della vita è un esempio per me da madre di poter lasciare libero così un figlio veramente mi colpiva quando parla dell'amore dice dove quando non ami allora tendi a possederle le persone quello mi colpisce sempre perché ognuno ha il proprio progetto e vuole portarlo avanti invece quando trovo persone così libere di potersi adattare a quello che i fatti la storia ti pongono davanti ecco lì vedo che c'è libertà perché si sono sentite amate nella loro vita e se hanno potuto dare perché hanno ricevuto tanto c'è un altro aspetto che ha sottolineato Papa Francesco e che è uno di quelli che più mi stupisce la generosità di famiglie che magari hanno tanti figli mi colpisce perché a volte chi si trova in situazioni oggettivamente più complicate faticose riesce ad avere una generosità che magari una persona che ha una situazione più tranquilla non riesce ad avere è un mistero in qualche modo è allenamento cioè secondo me o forse anche l'amore che si moltiplica l'amore sicuramente si moltiplica però ditevi piccoli passi ti alleni piano piano a mettere davanti anche le esigenze degli altri uno sempre pensa che quando si è in tanti si toglie almeno io questa era la mia problematica da mamma dico mi divido mi spacco in quattro per quattro figli poi mi sono risa conto che non è un punto di divisione do quello che posso dare ad ogni figlio e per tutto il resto veramente ci sono i fratelli ci sono i nonni c'è la chiesa c'è gli amici la scuola tante altre persone l'amore veramente si diffonde a me è fatto venire in mente un po' anche l'angelus di lunedì quando Papa Francesco spiegando la moltiplicazione il miracolo della moltiplicazione dei panni e dei pesci diceva che questi panni e pesci si sono moltiplicati all'improvviso per scintilla ma passando di mano in mano era un po' la stessa idea forse probabilmente si non è magia non è che c'è una ricetta magica per moltiplicarla si passa da c'è veramente nel l'amore è attrattivo perciò piano piano si moltiplica uno non può passare da un tutto così per effetto magico si passa piano piano si cresce e piano piano ci si accorge ecco delle piccole grazie nel quotidiano niente di spettacolare o di chissà quale ritrovato forse è una testimonianza che ha dato l'idea di un amore che va oltre la morte è stata proprio quella di Zacchia la moglie dell'ambasciatore Luca Tanasio ucciso in la Repubblica Democratica del Congo lì c'erano il fatto che lei dicesse di sentire il marito presente dà veramente l'idea di un amore che non finisce assolutamente sì al di là della vicenda drammatica credo che sia un messaggio per tutte le famiglie assolutamente sì veramente più più forte della morte è l'amore parole verissime nella vita di questa di questa coppia che sicuramente lascia un esempio al mondo intero ecco e soprattutto ecco continua nella sua missione educatrice dei figli continua nella missione anche del marito di comunione tra i popoli è quello che poi ha sottolineato Papa Francesco sì assolutamente e questo è quello che veramente cambia il mondo parliamoci chiaramente questo è quello che cambia il mondo cioè che una famiglia non rimanga segnata in eterno da un evento di lutto ma passa oltre passa oltre questa è la risurrezione a proposito di risurrezione mi ha colpito molto la testimonianza di Paul Germain l'idea appunto che dopo una separazione anche durissima con insulti attraverso i social siano riusciti a rinascere è un messaggio che viene da questa festa delle famiglie da questo incontro questa è la speranza per tutte le famiglie insomma che col me colpiva perché sono stati aiutati da delle coppie che loro hanno definito senior e quanto sia importante non ritrovarsi soli nei momenti di difficoltà anche coniugali è importante che altre coppie possano parlarti e aiutarti e darti la loro esperienza e farti vedere che non sai non sai tutto non sei solo e come poi piano piano aprendo aprendo anche dicendosi delle verità scomode sono riusciti a superare questa crisi coniugale e questo è il matrimonio cristiano questa è la bellezza della verità detta con amore sicuramente sappiamo che questo si concluderà con un mandato missionario tra le testimonianze abbiamo visto anche una missione di famiglie che aiutano altre famiglie era la storia di Pietro e Erika che stanno accogliendo Irina e la figlia come abbiamo sentito fuggite dall'Ucraina sì hanno detto una cosa molto vera molto vera hanno detto riesco a fare questo ad accogliere una famiglia a fare spazio in una famiglia già numerosa per gratitudine questa secondo me è la chiave di lettura per gratitudine questa famiglia ha sperimentato sicuramente nella loro vita la salvezza e questo l'ha sperimentato nella chiesa e solo per questo allora può aprire la porta della propria casa per questo può spendersi per altre persone dell'altra parte del mondo per questo capiscono e entrano in relazione con la sofferenza dell'altro perché si sono sentiti amati nella loro di sofferenza grazie Giuseppe grazie Giulia buon incontro mondiale delle famiglie che noi continueremo a raccontare già domani ci ricollegheremo insomma apriremo una finestra su quello che sta avvenendo appuntamento dunque a domani alle 17.30 grazie per essere stati con noi e buona serata grazie a tutti